E' stato sottoscritto dal Comune di Venezia e dalla delegazione sindacale di CGL Cisle Will la preintesa sulla parte economica per i 2700 dipendenti del Comune di Venezia. L'intesa presenta elementi innovativi di rilievo a partire dalla durata dell'accordo che per la prima volta a livello nazionale vale per tutta la durata del mandato della Giunta e che garantirà ai dipendenti avanzamenti di carriera e la salvaguardia della produttività fino al 2026. E' un accordo importante perché dopo 5 anni di iniziativa, umbilitazioni, lotte dà risposte salariali ai lavoratori, riconosce avanzamenti di carriera nei prossimi 3 anni mettendo al centro sia la valutazione ma anche l'anzianità di servizio quindi un equilibrio che dà risposte per migliorare i servizi cittadini e riconoscere ai lavoratori questi anni di mancati aumenti e anche di mancata valorizzazione della loro professionalità e delle loro competenze. Un'intesa molto importante che permette tra l'altro riconoscimenti di carriera ai dipendenti che sono fermi nella stragrande maggioranza da 10 o 15 anni nella stessa posizione economica. Siamo convinti che i lavoratori approveranno questa intesa perché è un'intesa che porta più diritti e più salario per tutti i dipendenti del Comune di Venezia e sono state respinte con l'idea di qualcuno che voleva premiare solo una piccola parte a discapito della maggioranza dei lavoratori.